A Pesaro si è formalmente costituito il tavolo politico di centrodestra in vista delle elezioni amministrative 2024 che definiranno il nuovo sindaco della città. Ne fanno parte la segretaria della Lega Silvana Ghiretti, quella di Fratelli d'Italia Serena Boresta, il coordinatore Forza Italia Gianmarco Cecconi, il segretario DC Fabio Giovannelli e il referente CVC Marche Giorgio Razzi. Un gruppo che assieme ai consiglieri comunali definirà la piattaforma con cui costruire il programma elettorale in vista delle elezioni. Alleanza che si è assunta l'impegno di costruire un'alternativa all'asse PD 5 Stelle dal quale si congederà Matteo Ricci. Attraverso una nota ufficiale il centrodestra si dice compatto e coeso per dare risposte alle istanze inascoltate della città e concretezza a progetti di sviluppo basandosi su un dialogo costruttivo con il mondo civico. Centrodestra che in questi mesi ha ascoltato associazioni, terzo settore, imprese, categorie economiche e sindacati, cogliendo un forte desiderio di discontinuità e le necessità di dare un nuovo impulso all'azione amministrativa di Pesaro che in questi anni, dicono, è stata molto più efficace negli annunci e nei proclami piuttosto che nei fatti. Centrodestra che dice di credere in un modello di governo che parta dalle partecipazioni e dal confronto rifiutando il metodo Ricci caratterizzato da scelte imposte e improvvisate e mai condivise. Si attende ora che nelle prossime settimane si definisca la squadra per il programma elettorale del 2024.